Noi abbiamo in collegamento da Roma Giorgio Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Benvenuta al TG4, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, lo dicevamo lanciando il servizio anche nei titoli. Non bastasse il problema e le incomprensioni, chiamiamole così, su quella che è il tema della giustizia finora, la prescrizione, e ora viene introdotto anche un motivo di lite, le intercettazioni. Come va a finire? Ma guardi, come va a finire? Questo è un po' difficile dirsi, perché vede, io per carità, i provvedimenti di buona fede sono mediamente dei pessimi provvedimenti, perché sono provvedimenti elettorali o di bandiera o ideologici in una materia che non dovrebbe avere nulla né di elettorale né di ideologico, cioè la materia della giustizia. Non puoi riformare la prescrizione se non intervieni sulla lunghezza dei processi. Anche quando parli di intercettazione, una cosa è intercettare il mafioso e una cosa è creare un grande fratello globale, tra l'altro nelle mani di società private. Dov'è che però Renzi non è credibile? Che ogni giorno non va bene niente, però domani, faccio un esempio, domani si vota la fiducia al governo. La voterà. Se Renzi è onesto, allora dica, io domani non voto la fiducia al governo, andiamo a casa, perché questo governo non è in grado di fare cose che io considero giuste per gli italiani. Altrimenti sta solo tirando la corda per ottenere qualcosa, che credo sia oggetto della sua attività di questi giorni. Senta, allora la faccio arrabbiare subito così abbiamo tempo per far pace. Si dice che ci sia questo accordo sotto banco tra Matteo Renzi e l'altro Matteo, che è il suo amico Matteo Salvini, per fare un governo di scopo. Ci crede a questa cattiveria, tra virgolette? È possibile? Guardi, Salvini lo nega e io non ho motivo di dubitare della sua buona fede. Tra l'altro obiettivamente non vedo come potrebbe Salvini mettersi a trattare con un Renzi che nelle stesse ore nelle quali appunto si attribuisce un dialogo con Salvini tratta anche con pezzi della maggioranza per di fatto modificare pezzi fondamentali di quello che fu il decreto sicurezza di Salvini. Quindi sostanzialmente Renzi vuole abolire, chiedo scusa, le multe per le organizzazioni non governative, vuole reintrodurre la protezione umanitaria che ha consentito a centinaia di migliaia di immigrati che non avevano diritto a stare qui di rimanere in territorio italiano. Quindi non so come potrebbe giustificarlo Salvini e infatti non ci credo. Chiarissimo. Allora, prima di vedere cosa ha detto Salvini, che è appena arrivato a Napoli. Dovrebbe essere pronto il collegamento con Anna Maria Chiariello. Sì, eccoci qui, è appena entrato nella sala del Teatro Agusteo, ha parlato un attimo un pochino con i giornalisti, ha spiegato che intanto per lui è fondamentale l'idea di dover andare alle elezioni il prima possibile. Pure se lo proponesse Topolino ha fatto una battuta, poi ci ha detto che è venuto qui a Napoli per parlare di sicurezza, ha incontrato gli imprenditori, è andato nel palazzo di palestra di Gianni Maddaloni a Scampia dove comunque si era parlato di un incontro che sarebbe saltato e adesso è qui per incontrare i napoletani in attesa di capire quale sarà il candidato e se sarà confermato quello che era il candidato alle regionali qui in Campania. E' tutto per il momento. Io lo chiediamo anche a Giorgio Meloni. Nel frattempo parliamo di Open Arms, vediamo quello che succede in quest'altro capitolo che coinvolge l'ex ministro dell'interno Salvini e le ONG. E' fissato per il 27 febbraio il voto della Giunta sulla nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Pochi giorni dopo il via libera del Senato per il caso della nave Gregoretti, la Giunta delle Immunità è chiamata di nuovo a pronunciarsi sull'analoga vicenda della Open Arms. Oggi la prima seduta no al processo è la proposta del Presidente Gasparri. Perché Salvini si è mosso nel rispetto delle norme che la legge costituzionale prevede, cioè se un membro di governo agisce per finalità istituzionali, per un'azione appunto di governo ispirata a principi costituzionalmente rilevanti non va processato. Quando Conte gli scrive il 16 agosto di fare sbarcare i minorenni o tempera all'ordine ma Conte non gli ha detto di fare sbarcare tutti. Sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio e reati contestati all'ex ministro dell'interno per aver bloccato lo sbarco di migranti lo scorso agosto. La collegialità è un presupposto, non una prova, argomenta il PD. Rimane da considerare se c'è un interesse costituzionale preeminente che consente a un'azione di, come dire, pur in violazione di una legge, di andare esente dal processo. Perché questo caso dovrebbe essere diverso da quello della Gregorelli. Questo caso dimostra ancora di più che quella di Salvini è stata un'azione di governo. È talmente vero che si sono scritti anche con Conte che ha modellato il tipo di intervento. Senta Meloni, prima di chiedere qualcosa su Penaros, mi dai proprio rapidamente la notizia se c'è un accordo con Salvini per la campagna? C'è un accordo con il centrodestra su tutte le regioni che vanno al voto. Mi aspetto che gli alleati mantengano come Fratelli d'Italia, sempre mantenuto i patti che si sottoscrivevano. E quindi? E quindi c'è un patto che riguarda il fatto che il candidato alla presidenza della regione Puglia aspetti a Fratelli d'Italia sia Raffaele Fitto, che il candidato alla presidenza della regione Marche anche lo selezioni Fratelli d'Italia e noi abbiamo selezionato Francesco Acquaroli, che il candidato alla presidenza della regione Campania era stato chiesto a Forza Italia di selezionarlo e Forza Italia aveva fatto il nome di Stefano Caldoro, che il candidato alla presidenza... Va bene, va bene, basta così, non voglio farla arrabbiare, volevo far pace con lei, no? No, no, è che volevo andare veloce. No, no, va bene. Non era, non era. Tutto chiaro, tutto chiaro. Allora, le faccio vedere una foto. Guardi qui, oggi il governatore della Calabria, Santelli, ha presentato quello che sarà il prossimo assessore all'ambiente della regione Calabria ed è Sergio Di Caprio, più conosciuto, e lo vediamo da questa sciarpa che porta per coprire il viso, come capitano ultimo. Cosa ci dice di questa scelta? Beh, la considero un'ottima scelta, sono molto contenta, conosco molto bene capitano ultimo, penso che sia una persona che ha servito la patria, che ha servito l'Italia, lo considero un patriota e sono contento che abbia deciso di spendere la sua autorevolezza e la sua competenza per dare una mano a Iole Santelli, a tutti noi, in un territorio che sicuramente ha bisogno di persone assolutamente specchiate con le quali lavorare, che abbia scelto di far parte di una squadra alla guida della regione Calabria, che credo possa fare un ottimo lavoro. Assolutamente. Allora, parliamo invece di un'altra operazione, questa volta coinvolge l'Italia e tutti gli altri paesi dell'Unione. Finisce l'operazione Sofia, nasce un'altra operazione per costeggiare, per fronteggiare l'immigrazione, ma è proprio così? Guardate. La missione europea Sofia, ridotta ormai ad un pattugliamento aereo delle coste libiche, si concluderà a marzo, quando partirà una nuova operazione militare per far rispettare l'embargo alle armi verso il paese nordafricano. Lo hanno deciso all'unanimità i 27 paesi dell'Unione Europea, superando il veto di Austria e Ungheria, contrarie a prolungare la vecchia Sofia. A differenza della missione avviata nel 2015, infatti, che si svolgeva davanti alla Tripolitania e puntava a fermare il traffico dei migranti, finendo per svolgere soprattutto operazioni di soccorso in mare, la nuova operazione si svolgerà più ad est, davanti alla Cirenaica, dove partono meno migranti e ci sono le rotte del petrolio. Per la prima volta, poi, è stato riconosciuto il possibile pull factor, se le navi a largo favoriranno le partenze di imbarcazioni con migranti, l'operazione sarà fermata. Verranno utilizzati aerei, satelliti, navi e forse anche soldati a terra per controllare i carichi dei mercantili, mentre ancora non sono chiare le regole di ingaggio con eventuali aerei sospetti e come sarà impedito il passaggio di armi via terra. La Russia, lo ha spiegato oggi Roma il ministro degli esteri Lavrov, sostiene la missione europea, purché rispetti le indicazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In Libia, intanto, mentre continua il blocco da parte delle milizie e delle esportazioni di petrolio, la tregua di Berlino è stata ancora violata. L'esercito del generale Haftar ha colpito proprio una nave turca che stava, a quanto pare, scaricando armi e munizioni nel porto di Tripoli. Senta Meloni, noi abbiamo titolato un po' provocatoriamente dai migranti al petrolio, ma non è che davvero questa nuova operazione si preoccuperà più di salvaguardare le rotte del petrolio che non quelle dei migranti? Guardi, questo io non ho gli elementi per dirlo, posso però dire che chiaramente quello che si sta facendo in Libia è un sistema di pattugliamento per garantire l'embargo delle armi. È sostanzialmente un blocco navale per le armi che l'Unione Europea decide di mettere in piedi. E bello tutto, siamo tutti molto contenti, ma se si poteva fare un blocco navale vuol dire che aveva ragione i fratelli d'Italia quando per anni ha chiesto un blocco navale per impedire le partenze dei barconi e per impedire le centinaia di migliaia di persone che si spostavano dall'Africa all'Italia senza che fosse data nessuna reale precedenza e nessun aiuto reale ai veri profughi. Evidentemente avevamo ragione noi tanto per cambiare. Spero che tutti quelli che ci hanno spiegato che non si poteva fare un blocco navale in questi anni adesso rivedano la loro posizione e riconoscano che gli unici aver fatto la proposta veramente risolutiva del problema e l'immigrazione irregolare erano quelli di Fratelli d'Italia. Allora, menoli, vogliamo festeggiare oggi il primo compleanno del reddito di cittadinanza? Lo festeggiamo insieme, vediamo il servizio. Lo so, vediamo il servizio. Supera quota un milione il numero delle domande accolte per reddito e pensione di cittadinanza da quando è entrato in vigore, cioè dallo scorso marzo, ma sono poche le persone che hanno trovato lavoro attraverso il sistema dei navigator e anche la spinta al PIL è stata più debole del previsto. L'Inps ha comunicato i dati aggiornati a febbraio. In totale le due misure hanno coinvolto 2 milioni e 600 mila persone pari a 1 milione e 59 mila nuclei familiari. Di questi 933 mila hanno percepito il reddito e 126 mila la pensione di cittadinanza. Complessivamente sono costate 3 miliardi e 850 miliardi di euro, circa 1 miliardo ed 800 milioni in meno di quanto previsto inizialmente, che hanno però prodotto una spinta alla crescita del PIL che sia governo sia commissione europea quantificano intorno allo 0,1-0,2%, pari a circa 2 miliardi e mezzo risultato non certo soddisfacente. Molto modesto anche il dato che riguarda le persone che hanno trovato un lavoro tramite navigator e centri per l'impiego. In totale su 908 mila disoccupati che hanno percepito il reddito, appena 40 mila hanno poi ottenuto un contratto, si tratta del 4,4%. E anche sul piano del consenso elettorale, secondo un'analisi del quotidiano Il Messaggero, il reddito di cittadinanza non ha portato fortuna al Movimento 5 Stelle. La Calabria è il caso più eclatante. I voti presi dai pentastellati alle ultime regionali, poco più di 48 mila, sono di molto inferiori alle 74 mila domande accolte per il reddito. Senta, la mia battuta sul compleanno, Meloni, non era casuale, perché in realtà si dice che proprio grazie al reddito di cittadinanza voi, i fratelli d'Italia, vi state mangiando un po' i 5 stelle, è così? Ma guardi, noi abbiamo avuto il coraggio di dire le cose come stavano. Il reddito di cittadinanza era una misura sbagliata e abbiamo avuto il coraggio di dirlo quando tutti pensavano che il reddito di cittadinanza avrebbe risolto il problema della povertà. Era una misura sbagliata perché non è una misura assistenziale. Sul piano dell'assistenzialismo uno Stato giusto non mette chi può lavorare e chi non può lavorare sullo stesso piano. Uno Stato giusto fa assistenzialismo verso chi non può lavorare, i disabili, gli anziani, i minori e per gli altri lo Stato giusto deve garantire lavoro. Ora, lavoro si crea con la crescita e il reddito di cittadinanza non favoriva neanche la crescita perché come voi dite correttamente nel servizio e come Fratelli d'Italia ha denunciato per anni, mentre i soldi che si spendono in spesa corrente nel bilancio di uno Stato producono un moltiplicatore pari a zero, i soldi che si spendono in investimenti producono un moltiplicatore di due volte tanti i soldi che spendi, per cui quelli sono soldi che non producono niente di nuovo. Mentre se tu quelle stesse risorse le avessi messe sul lavoro ma piuttosto sulle infrastrutture, su qualunque altra cosa che rimaneva, il moltiplicatore sarebbe stato enorme. Questa è la ragione anche per la quale il Sud ha votato, ha voltato, chiedo scusa, alle spalle ai 5 Stelle, sono fiera del dato della Calabria, perché non si combatte la povertà mantenendo la gente povera con la paghetta di Stato fin quando lo Stato ti dà la paghetta, si risolve la povertà mettendo quelle persone nella condizione di salire la scala sociale. E cosa si fa con gli investimenti? Chiarissimo, Giorgio Menoli grazie per essere stata con noi al TG4, l'aspettiamo ancora e presto. Buon lavoro. Continuiamo a parlare di soldi.